Hey guys! Bentornati! Nuovo giorno, nuovo video, nuovo appuntamento con Akira gioca a Magic su MTGO Magic Online, quindi sulla piattaforma vecchia. Pensate, credo, se non sbaglio, che MTGO sia stato creato nel 2002-2003 e tra l'altro se vede, se vede molto bene, potrebbero fare un restyling, qualche animazione, no, assolutamente lo teniamo brutto, quindi solo chi effettivamente vuole giocare a Magic, quello cattivo, quello solido, quello di cervello, quello dei formati eterni può avvininarsi a tale piattaforma. Noi stiamo giocando Modern, quest'oggi stiamo giocando con un mazzo che avete scelto voi cioè RG Titan Shift, Titan Shift è un RG chiamato come vi pare, siamo pronti per la partita numero 4 che ci catapulta, speriamo, verso il recuperare quanto investito, perché basta una vittoria un'ottima mano, diciamo anche on the play, questa spacca di mano, è solo rampanti quello che vogliamo quindi resiste a qualunque scartino, niente roba clunky, niente escape shift, doppio, triplo, quadruplo poi pescheremo qualcosa, non c'è dubbio, scusate, voi pensate che io con questa vanna non pescherò qualcosa pescherò sicuramente qualcosa, non c'è dubbio Ah, Once Upon a Time, e chi è che gioca a Once Upon a Time? Perché se è Infect possiamo tranquillamente concedere senza neanche giocare, se poi ci fa vedere Stoneforge Mystic, che addirittura fa verde rosso onestamente siamo molto divertiti dal fatto di avere contro di noi un mazzo midrange che vuole cercare di giocare una partita midrange, e molto probabilmente, poverino, giocherà ben poco abbiamo pescato anche un Explore, che ci dà la possibilità di pescare un'altra minaccia cioè ci dà un'altra possibilità di pescare minaccia, questo volevo dire, ma tanto al turno dopo noi faremo qualunque cosa succeda, qualunque cosa succeda, faremo ovviamente Monvulia, Cidmos e Terra ah, se pesco terra, posso pure fare Explore Monvulia, ma faccio una cosa incredibile ok, Vrenen6, Vrenen6 non siamo contenti di vedere, nessuno è contento di vedere Vrenen6 perché Vrenen6 è il placewalker più forte del modern, quando Oko sarà bannato io registro questi video ragazzi, la settimana del 6, 7, 8 e bla 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 ora non mi ricordo che giorno è oggi, quando voi li guarderete, probabilmente Oko sarà già andato via dal modern ciao ciao Oko, e Vrenen6 sarà rimasto number one number one allora, ho pescato la terra che volevo, quindi Explore beh bene ma non benissimo qui, eh bene ma non benissimo cinderglade altra montagna Monvulia, Acidmos qui prendiamo Stomping Ground certo ok, ora veramente abbiamo fatto questo è il nostro turno 3 ragazzi non volevo dire così lui ha una terra e noi ce ne abbiamo 7 ok, la patch è evidente che tu possa prenderla, potevi pure riprenderti l'altra Stomping Ground direttamente Stomforge Mystic per te prendi una qualcosa dal cimitero vabbè, mo tocca a me eh, mo ci saranno tanti turni di nulla in cui speriamo di pescare una chiusura ma se non la peschiamo dovremo aspettare un bel Explore qui, Explore into Scape Shift ma subito Scape Shift poi va alla fine perché qua lui va a prendere una carta in più che deve riscartare chiaramente dalla terra uh, 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 uh questa è una carta di Magic, eh questa è una carta di Magic forte non è una carta di Magic scarsa ci permette di pescare due carte di Magic forti ecco qua abbiamo 7 terre diverse 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì assolutamente quindi possiamo permettere di fare questo così bene, bene, bene tra questi due clou ragazzi c'è la spell che ci farò vincere cioè o un titano o uno scape siete pronti? l'ho dichiarato eh in realtà questo gioca Rhythm of the Wild bene, bene ma non benissimo come cantava Shade ma mamma mia quanto so giovane ma so pure che cazzo canta Shade ma vi rendete conto? ha 41 anni bene ma non benissimo ok muore in tutti i casi quindi è inutile saccare il clou adesso povero povero Tyler Stryker però hai fatto tanto eh questo è morto comunque sì vi ho detto che in queste due carte c'è la chiusura ecco la prima attenzione ed è Field of the Dead che comunque mi sembra buona cioè non è proprio scarsa ecco non è l'ultimo che vi avevo detto? che vi avevo detto? beh no effettivamente non l'ho per scadarli quindi non vale ok dicevi amico mio bene ma non benissimo no tieni mangia di quest'affare troppo mana? aspetta aspetta sto sbagliando qui lagga non capisco io non voglio assolutamente usare troppo mana no infatti basta così doppio valagutta a terra sono due zombie per me sì e noi terra l'abbiamo fatta sì perché abbiamo fatto Field quindi è inutile spaccare il clou in ogni caso è proprio inutile adesso lui deve fare Path to Exile Path scusate Path to Exile no mette Butterschool che gli avevamo visto prendere se non sbaglio sì eh mannaggia ma contro Butterschool come fanno? ma caspita eh non vincerò mai contro Butterschool con questo mazzo faccio vedere la faccia la faccio in grande non vinceremo mai certo quando rito da solo secondo me voi fate delle risate che hai detto ma sono scemo a 41 anni giornalista questo o quell'altro Head of Content caster che si diverte così sì Bolt su Premival Titan ci sta un altro Bolt per forza perché se non si spiega no Elika che hai fatto? Bolt in tutto tre Bolt eh morto Premival Titan ti ricordo che ho doveva la gutta a terra e delle montagne ogni montagna che faccio sono sei danni quindi se per sbaglio faccio due montagne in un turno sei morto lui attacca con quel coso io blocco chiaramente tutte e tre sbagliato che sto a fare? scambio i balletti tiè eppure se c'hai una removal che non hai chiaramente che le hai fatte tutte eh ma mentre pesco pesco perché faccio Bolt qui una fetch va bene sei a sedici non morirai proprio subito morirai tra un po' comunque è fortissima Villorded in questo mazzo eh lo devo dire così altra Stoneforge Charm Goyf Charm Goyf va bene Brennan Six è affinito perché ci siamo anche stancati di lui eh battaggio carte anche basta dici perché Brennan Six non Stoneforge perché Stoneforge che ne so che lui ha un altro equipaggiamento in mano secondo me non ce l'ha mai tra l'altro perché se no non avrebbe tappato per fare Goyf che è veramente del tutto inutile lui lo sa lo sappiamo tutti che Goyf è tutto inutile vero sì lo avremo tutti cioè io ogni terra faccio due creature che so due blocchi che cazzo vuole da me cioè nel senso ma poi che gioca questo Cikusa che gioca questo quando lo devo scrivere nel mio file che scrivo cioè che scrivo boh cioè Cikusa che è Naya Naya che peggio che One's a Money Time la gente chiaramente dice vabbè ma funziona anche il mio mazzo con sta carta perché effettivamente fa funzionare tutto con la carta però questa poltiglia di roba non è proprio il massimo della funzionalità allora Fetch eh Fetch speravo di no Equip e Amen quindi qui tocca trovare Scape Shift eh perché sennò questo non muore mai non Equip non perdo lo zombie mai nella vita aperto 6 perché presto ho detto se dovesse servirmi effettivamente una colletta mega galattica per quello adesso come adesso è inutile andare a bloccare Goif e solo un chat block mentre se dovessi pescare un altro titano fare un sacco di zombie ancora non ammazzarlo cambierebbero le cose search for tomorrow cazpiterina abbiamo finito le montagne qui qui e va bene pure una 6-7 ragazzi comunque Thermo Goif è sempre una carta splendida di Magic tra l'altro adesso correte a comprarli perché risale perché il Thermo Goif non è il più grande amico di Oko adesso tra un po' arriverà il momento che Oko verrà bannato Ok gli levo la board lui che fa qui lui può fare esatto riprendo Batter School stavo per dirlo riprendo Batter School e lo ricalo faccio una 4-4 la tua board è rovinata nel senso non ha più roba però ha una 4-4 noi passiamo tranquilla sì carde mistica 4-7 perché non fai sempre yes fallo un po' Ok no non attacchiamo i nostri 5 zombie sono belli lì a difenderci lui 4 carte noi 0 speranza di pescare un mostro è grande è un bel patto Ok pesca carta 4 mana per lui che fa un Hunt Master me lo aspetto un Hunt Master da questo mazzo l'altra carta che dovete comprare adesso è Brennan Six appena Oko viene bannato Brennan Six schizza perché è chiaramente il riandante più forte dei Modern e lo dimostrerà di nuovo uff Tarmogalf è tornato lui gioca anche company dentro sto mazzo con tanto coraggio immagino però vabbè niente non vuoi morire ci sta oh ci sta e qui aspettiamo a fare fetch aspettiamo perché potrebbe decidere da solo di equipare Tarmogalf senza che non gli spariamo sul germe perché qui la giocata era chiaramente sparare sul germe fare stomping ground e sparare sul germe interessante eh su chi equipi su Tarmogalf spero anche perché è l'unico che sopravvive se questo è veramente non è una bella notizia questo ci ammazza in due turni non possiamo bloccare più quindi la feccia la teniamo per ammazzarglielo in caso pescassimo terra quello è il più grosso 4 e 3 7 ci ammazza pure il germe la verità è questa lui stappa tutto non ci voleva la sua pescata di spada certo noi abbiamo tutte le terre del gioco sul board e non troviamo la chiusura ci sta che vi devo dire Gerarca si ha un'altra spada vabbè ok tutte le pescate senza mistica pescato tutto il pacchetto equip va bene quindi se feccio mi levo la possibilità di pescare terra se pesco terra almeno gli levo termogosimo muoio lo stesso e allora che scelta è tra l'altro le terre sono praticamente finite ma vinciamo uguale noi perché non vinciamo vediamo questo qui non so quanti zombie gli fanno del danno 7 zombie hanno 14 danni lui lo può bloccare 2 con terra vinciamo giusto se lui ne blocca 2 noi poi gli facciamo 6 danni allora prima lo facciamo bloccare se c'è patto exile rosico una carta patto exile lo facciamo bloccare fa 10 danni terra e muore lui blocca blocca perché non è cretino no addirittura con noble hierarch vuole eh cazzo sei scemo va bene senti ti meriti di perdere solo perché è un mazzo veramente inesistente però insomma ho anche sculato eh morto 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 ma per curiosità ma quando era la chiusura cioè far sì che non ci aiutava a volte non ci aiutava però vabbè ok dismember oh questi questi non sono male reclamation al posto allora i due monovoli li tolgo proprio li tolgo forse vigor la gioco tarlestracker mi piace mi piace moltissimo levo un explore come al solito taglio un explore le creature che danno vita non servono a niente poi sono verdi non non difendono velo summer è l'unico che c'ha piccolino non è buono non gioca né blu né nero cioè di solito in questi tempi si gioca solo blu e nero lui gioca naia no perché io gioco naia alzo le mani sì alzo le mani speriamo di portarla a casa così siamo 3-1 e poi andiamo a vedere se facciamo il 4-1 con questo mazzo un'altra ottima mano per noi ma ottima veramente stavolta abbiamo anche la chiusura oltre ad avere dismember ora pensiamo vogliamo fare dismember su mistica o vogliamo fare dismember sul suo accelerino non avremo scelta un altro patto così poi in caso mistica speriamo non faccia il 4-1-6 non sarei contento del 4-1-6 se fa mistica siamo l'uomo più contento del mondo ovviamente non uccidetelo in risposta al trigger della ricerca fatelo prima cercare che cerchi quello che vuole e poi saprà che noi abbiamo dismember che li uccide mistica perché magari qui può prendere spada ma non lo fa perché pensa che butterschool sia meglio ma poi non lo può più calare deve avere 5 mana ok quindi qui non uccidetelo con dismember mai nella vita lui passa e rassegna il suo fantastico primorio per un equipaggiamento che sarà butterschool e poi questa muore comunque mamma mia la lentezza a me va bene che il client sia così simile a coccatrice che l'hanno fatto dei pischelli invece questa è una società che appunto ha un sacco di soldi però almeno i server ragazzi almeno i server cioè che cazzo questa partita sarà molto più rapida che quella di prima non ha counter non ha scartini quindi mi sa che il mio titano si allunga qui voglio pescare troppo a due per fare proprio la power playata la power playata di cristo voglio fare vdels into explore o vdels into into bo invece no non succederà faccio vdels e basta vabbè non è meglio di niente dobbiamo prendere una terra che si chiama in una maniera diversa vabbè prendiamo scelta dice facciamo questa non facciamo misti anche se la dovremo fare dopo e poi arriva lui titano primitivo perché con questa voce qual è la voce che titano primitivo è con noi una voce veramente cattiva tra l'altro titano primitivo fa a lui che ha preso amber clave l'avevo visto anziché prendere spada per il proteggio da verde e da nero che ragazzi è l'unica cosa che lo salva da field of the dead è tutto ha preso amber clave vuole cercare di far finire la partita il più presto possibile va bene l'uno è morto ci sta ci sta adesso noi qui spariamo zero danni che peccato un grazie questo fulmine lo devo pescare dopo un gran peccato un gran peccato davvero allora le nostre cinque montagne ce le abbiamo quindi possiamo andare a prendere basica verde fare titano ma perché non mi scegli verde automaticamente vabbè field of the dead valakut poi abbiamo due patti in mano mandovai mandovai pure ti voglio ammazzare il batter school che stai per fare te lo ammazzo qui potremmo prendere doppia valakut perché dici sai che c'è se io prendo doppia valakut e lui fa patto exile è un disastro ma onestamente io a parte non penso che faccia patto exile adesso perché deve flashare con stoneforge mystic l'artefatto se no non è il mana ma in seconda battuta mi accollo pure che patto exile anziché fare tre danni in più fa uno zombie ne è proprio accia come situazione vabbè dai tu hai incontrato il match up brutto l'abbiamo capito può giocare una partita che non esiste perché qui veramente non esiste partita simile ok batter school lui può fare amber clave con itch attacking cattro quindi costa 5 addirittura se c'ha rosso sì questo è double strike vi ricordo quindi muore sempre da titano se attacca vuole fare quello ovviamente ah ma che carino lo fa con stoneforge mystic questo gli da più uno più uno double strike e trample quindi va bene ma perché dovrei bloccare con titano che poi titano lo ammazza io blocco così vabbè lui gli darà double strike e trample in verità no avrei dovuto bloccare con titano perché tanto c'ho un altro titano quindi c'è chi se ne frega lui fa stoneforge su quello 5 5 sono 10 a meno che non riesce a pomparlo ancora di più non so come lui fa 26 che sono tanti per carità ma adesso lui perde tutto tira fuori sto patto exile tiralo fuori subito perché se non hai patto exile proprio c'è io rido a 4 ci ha mandato attenzione che c'ha 4 danni no tarmogoif mi dispiace amico mio madonna mia oddio 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 quanti te ne faccio ma che attacco lui ma che attacco lui se se vuole si ho detto attacca ovviamente prendo doppia valakut valakut oddio no prendo valakut montagna che gli spacco il germe equipato che c'ha comunque double strike e gli avrebbe dato un sacco di vita adesso lui deve bloccare questo titano 1 2 3 4 5 6 madonna gliene faccio 2000 e poi posso pagare i due patti si si li posso pagare ok vai a 20 perché non hai voluto bloccare con tarmogoif ci sta sei un eroe dei due mondi titano non non sarà non sarà contento di quello che sta per succedere ora sono 3 6 9 e quindi no faccio doppia valakut valakut e valakut sono un sacco di zombie cioè due e poi vado a prendere sakura che distribuisce 12 danni come vuole quando tu attacchi quando tu non attacchi vai ok mi sento di dire che questa partita se la vince mi mangio il cappello eccolo qua un cappello qua cominciamo ah eccolo me lo mangio da vero bolt più bolt io muoio semplice ah no bolt più oh ma scemo però che pippa che pippa questa reazione è giusta così eh cioè se ha bolt in mano ci devo pensare no sono 4 vedete che cretino gli devo ammazzare Brennan Six prima che stappa che cretino scusatemi ragazzi comunque spero che non vogliate veramente farmi mangiare il cappello me lo meriterei perché ho veramente giocato in maniera pessima pessima veramente è un errore imperdonabile tra l'altro non vengo premiato giustamente da questa mano che però tengo perché ha doppio fulmine tra l'altro non so neanche era a 20 forse c'era anche la kill in mezzo a quel 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 casino perché se io i danni li faccio subito no li devo levare e battere però vabbè dai meglio non piangere sul latte versato ho fatto una stronzata mega galattica una partita vinta l'ho trasformato in una partita persa però vediamo a non sbagliare tra l'altro scusa ma su bolt sono stato anche più pippa del normale perché io su bolt posso tranquillamente fare sakura che uccide vrendan six però ho perso la testa mi sono arrabbiato ed eccolo lì che come al solito come al solito mio direi ho buttato tutto alle ortiche mi succede spesso mi è successo alla finale dell'MCQ agli ottavi scusate la top 8 quell'MCQ era mio potevo essere al Pro Tour adesso invece sono qua a giocare a Magic Online e a sbagliare davanti a voi su YouTube vabbè Magic è un gioco complicato lo dico spesso questo non è che mi salva tra virgolette da quello che è successo però quindi dobbiamo andare avanti con le terre quindi credo che farò V Delves e Bolt lui prende sempre Bat è certo e poi V Delves e Botto boh allora dicevamo la scelta migliore è fare V Delves che da l'anda stappata senza dubbio Cinderglade ma come ho fatto per non pensarci cioè Cinderglade Bolt poi dovremmo pagare il patto quindi faremo un turno di nulla vabbè speriamo pescare terra almeno quello 2-3 mana non ha fetch perché sennò avrebbe potuto fare Renegade Reller che era bello potente come giocata fa Goif fa Nacatl vabbè qui noi paghiamo il patto certo se no moriamo quindi sì dicevo spero di pescare l'anda la pesco ma non è del colore giusto peccato vabbè almeno siamo andati avanti in bordo non c'è dubbio possiamo fare titano al turno dopo lo faremo chiaramente comunque come al solito questa è una cosa che ripeto in questo video mi apro a voi mi succede spesso spessissimo io quando sto vincendo perdo non riesco a mantenere alta la concentrazione quando mi sento effettivamente che non può succedere nulla di sbagliato Magic è un gioco che i ribaltamenti di partita sono all'ordine del giorno non ha senso fare un ragionamento del genere sentirsi sicuro anzi bisogna tenersi sempre concentrati fino all'ultimo attimo disponibile proprio sempre e comunque quindi occhio a fare errori come il mio perché davvero compromettono tornei e partite che poi insomma non meritano di essere compromessi lui ha fatto un board allucinante io posso fare titano ha preso Amberclay perché giustamente mi vuole ammazzare qui certo la mia pescata di Valakut è una buona pescata non buonissima perché insomma qui avendoci troppe montagne non posso fare troppe poche montagne non posso fare che anche farò comunque titano e ovviamente field of the dead qui manca una montagna sicuro che prenderemo sotto forma di quella che si cicla o quella base snow covered no meglio quello che si cicla sì field of the dead e shuttered quindi mettiamo i nostri zombie quantomeno amberclay possiamo gestirlo un po' meglio poi dobbiamo pagare un patto 1,2,3,4 e poi facciamo scapeshift e vinciamo quindi io direi che adesso bloccheremo con tutto quello che a nostra disposizione qui è l'unico finestra che lui ha in cui può fare bene patto exile perché se fa patto exile qui non cioè triggera field of the dead non triggera palakut non lo fa attaccherà con tutto ambercliffe può finire ovunque però se una sola creatura passa non ci dovremmo preoccupare se non ci spacca terra dovremmo aver vinto a meno che non abbia avemmo incensor no oddio se l'avemmo allora lui attacca con una sola creatura perché perché tra l'altro con questa ambercliffe si tappa out io voglio che si tappa ah no certo c'ha questo ok non c'entra niente ambercliffe si tappa out gli faccio ammazzare il mio titano ma si dopo faccio talmente tanti zombie a meno che non ha ah ma è my chance ora appunto il che significherebbe pescare terra perché così posso fare bolt no allora lasciamo vivo titano ma qui lui ambercliffe lo fa in tutti i casi quindi bloccare con due non ha senso intanto lui lo fa in tutti i casi ok bella con quest'idea di stoneforge mystic ambercliffe cioè nel senso è carino il mazzo un aia aggressivo con tutti questi tool che può giocare anche una partita lunga e così via e questa interazione tra stoneforge mystic ambercliffe non la conoscevo mamma mia che cappellata che ho fatto prima ragazzi comunque ripeto faccio questo video anche per questa gente qui io lì come avete visto ma poi mi rivedrò ho proprio tiltato è quella la cosa quando ho visto fulmine ho tiltato perché anche quando vedo fulmine non ho perso sacco sakura faccio 12 danni ho possibilità di fare 12 danni dove mi pare e mettere degli zombie 3 danni vanno su vrenen 6 e lui deve tirare fuori un'altra roba capito quindi veramente è stata un po' così comunque secondo me il my chance lui non ce l'ha mai la vita questi sono 10 meno 2 fanno 8 quindi deve avere doppio bolt per vincere se ha doppio bolt molto probabilmente questo video non lo vedrete mai perché lo cancellerò tra l'altro bolt in questo non c'è più una merda però adesso lui deve giocare contro premival titan ok verde verde in colore in colore ok ok se tra l'altro ce l'ho io doppio bolt roba vabbè io attacco qui le montagne in gioco sono due sono quattro scusate quindi non posso prendere solo valakut bolt eccolo che ci ha fatto exile ok gli rimangono due carte adesso questa finisce in montagna e fa uno zombie ovviamente se c'è minscensor perdo se no ho vinto non penso di giocare su perché io posso pure giocare sui miei due bolt cioè nel senso tiro fuori una montagna metto un altro zombie poi ho doppio bolt e gestisco gli do la possibilità a lui di pescare doppio bolt cioè questa è la verità secondo me se aveva minscensor faceva pure attaccare i titano magari no però insomma io credo che la giocata giusta il minscensor non gioca più nessuno ed è una cosa sbagliata vediamo che cosa succede magari vince ripeto veramente questo cappello saprà pasta asciutta proprio anzi carbonara di quelle buone con la salsina fatta a modo sacrifice in the number of land uno due tre quattro cinque sei e sette giusto lascio field e valakut qui devo fare diciotto danni prendere valakut e sei montagne ne ne faccio duemila valakut e poi cinderglade montagne montagne stomp in ground stomp in ground no word ecco fatta valakut esplode e vabbè ne faccio tutti a lui devo levare il board pensa se c'ha tipo tanto ormai questa partita è andata così dai ragazzi è andata che youtube sarà come si dice memorizzerà per sempre questa mia scemenza scemenza è bello a tre mi fa doppio botto perché mi voleva far rosicare botto lo fa e invece no non è che non meritavo però ho fatto un errore molto molto grave voi mi raccomando non li fate ripeto tante riflessioni da fare su questa partita il tilt è dietro l'angolo anche se si fanno video su youtube questo è è stata una cosa a cui non ho pensato avrei dovuto invece è stata tra l'altro è una cosa facile soprattutto sul bolt che mi uccideva quello dico perché prima magari uno ci può stare dico vabbè la combinazione di carte per n6 bolt non l'ho letta ci sta può succedere però a quel punto invece quando succede la cosa che vi ammazza potete dire vabbè ok ho perso mi dispiace un botto cazzo non me lo meritavo però fammi vedere e lì vedendo avevamo la risoluzione in pugno grazie per aver guardato ci vediamo domani forse se non scappate tutti via no sto scherzando cioè oddio non lo so